La vetreria Bucin Toro In collaborazione con una antica fornace di Murano Oltre ai classici oggetti dell'artigianato veneziano possiamo ritrovare gli splendidi lampadari in vetro soffiato che possono venire ordinati direttamente dal cliente su misura senza parlare dei pezzi unici creati dai grandi maestri vetrai di Murano Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!